Ups a tutti ragazzi e ragazze, come state? Oggi sono qui solo per voi, per portare avanti appunto il calendario dell'avvento e oggi siamo al giorno 6, 6, 6, 6 dicembre Che trigger ci sarà oggi? Solo per voi, oggi ho scelto il brushing con i pennelli Farò un po' sul microfono, un po' sulla camera Quindi mi raccomando, voi indossate un paio di cuffie auricolari Stendetevi sul vostro letto e cercate di dormire, va bene? Quindi io adesso tolgo la spugna qua sopra e parto subito col brushing There you go Grazie 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 Il video di oggi purtroppo finisce qua Ma se voi volete potete restare ancora insieme a me Perché ora vi lascio di qua il video di ieri Di qua una mia playlist e qua da qualche parte il tasto per andare sul mio canale Vedere qualunque video che apriete, va bene? Quindi buonanotte, buonanotte E noi ci vediamo domani con un nuovo video del calendario dell'avvento Un bacio Grazie a tutti.